superanima 7 la scuola celeste di jane roberts voce silvia capitolo 5 la mini vacanza di superanima 7 superanima 7 continuava a crearsi delle piattaforme per non precipitare nel pozzo dell'esperienza di maa eppure non faceva altro che ricaderci il distacco stava diminuendo e lui nei momenti di lucidità pensava che non fosse affatto giusto cyprus stava esagerando questa parte dell'esame era troppo difficile per il suo livello di sviluppo avrebbe miseramente fallito l'esame e forse avrebbe addirittura finito per perdersi completamente in maa l'unica occasione per farsi valere era quando veniva invocato da una delle sue personalità che ne fossero coscienti o meno o quando maa aveva direttamente bisogno di lui una volta per esempio era completamente perso in maa o credeva di esserlo quando ad un tratto fu cosciente della discesa di proteus sulla terra gli giunsero delle rapide e chiare immagini dell'atterraggio vide addirittura l'intero paesaggio dalla punta di uno degli sci di proteus cosa diavolo ci faceva sulla terra si chiese infastidito e cosa stava capitando a giosef e a lidia mentre lui era intrappolato come lo si potrebbe definire altrimenti nel corpo di maa sembrava che maa avesse continuamente bisogno del suo aiuto quando lui era maa e perdeva la sua indipendenza percepiva la paura e l'insicurezza di lei la percepiva in pieno senza il beneficio della propria conoscenza superiore e la paura di maa minacciava di divorarlo d'un tratto sette capì che doveva portare maa al di sopra della paura solo se si fosse liberata della paura sarebbero stati liberi entrambi in realtà lei era piuttosto aggressiva e indipendente tranne quando la paura le faceva dimenticare tutto ciò che sapeva proprio come era successo ieri era stato ieri quando erano stati scoperti gli uomini che li avevano catturati avevano un aspetto diverso da quello delle persone che maa o rampa avevano visto fino a quel momento e questo li aveva totalmente spaventati mentre venivano condotti giù nella sala maa si era messa a gridare alla vista delle torce poste nelle nicchie del muro lei e rampa erano terrorizzati dal fuoco come poté scoprire sette entrambi si erano spaventati alla vista del fuoco e delle ombre scure che balenavano sulle grigie pareti di roccia quelli che li avevano catturati o che li avevano soccorsi erano alti quasi tre metri secondo i parametri di lidia in confronto al metro e 60 di maa e al metro e 80 di rampa come se non bastasse gli uomini indossavano indumenti tinti con colori vivaci e ovviamente non fatti di pelli sette sapeva di possedere delle informazioni su quella gente ma le emozioni di maa continuavano a bloccare la sua consapevolezza ora maa guardava la parete della grotta lei e rampa stavano chiacchierando e si domandavano se oppure quando sarebbero stati liberati avevano appena finito di mangiare l'ultima delle radici che avevano raccolto e legato alla cintola una torcia ardeva in alto sopra di loro il soffitto della stanza aveva un'apertura al centro adesso erano meno spaventati li avevano lasciati soli per ore la porta della grotta si rifiutava di muoversi ma a parte questo non c'era nient'altro a trattenerli sette fece risalire stancamente la sua consapevolezza scrutò attraverso gli occhi di maa e sulla parete della grotta apparvero immediatamente delle immagini erano visibili a lui ma non a maa che non prestava attenzione sette pensò che fosse strano perché dopo tutto stava guardando con gli occhi di maa dapprima le immagini erano lattiginose ed opache poi si fecero chiare morbide divide per sette ma non per maa il muro scomparve come se non fosse mai esistito lydia aveva appena chiesto mentalmente aiuto ma senza rivolgersi a nessuno in particolare la parete del camper si stava offuscando e lei sapeva cosa significasse era uno di quei grossi camper lorence stava guidando e lei invece era rimasta a leggere seduta al tavolino fissato alla parete dietro il guidatore una mano magra e ossuta era ancora posata sul libro in quel momento lydia ebbe un improvviso tremito senza preavviso un altro piccolo attacco si appoggiò immediatamente allo schienale finché ne era ancora in grado aggrappandosi per non cadere dal sedile e non avrebbe chiamato lorence aveva deciso di non farlo lasciamolo guidare ignaro gli angoli della visuale si stavano sfocando in modo sempre più rapido qualcosa dentro di lei stava capitolando si strinse in se stessa per la confusione forse per l'incoscienza ma lorence avrebbe avuto il coraggio di darle le pillole l'hai promesso pensò lydia con demenza non voglio morire vecchia dentro una casa rinchiusa gli occhi volarono l'armadietto dove teneva le pillole se non ce l'avesse fatta se la sua mente avesse ceduto se non fosse riuscita a tenersi a galla lorence avrebbe saputo che fare l'ultima cosa che lydia ricordò fu di aver guardato l'armadietto come sempre quando usciva da quello non capiva cosa fosse accaduto lorence stava ancora guidando e ascoltava la radio dunque lei non aveva gridato o forse lorence non l'aveva sentita se per caso l'aveva fatto il libro era accanto a lei si sentiva stordita tutto qui lei ma chi era lei il panico si riversò sulle pareti impaurite della sua mente come era possibile dimenticare come era possibile che il corpo dimenticasse il proprio nome il nome del proprio corpo ma il corpo aveva un nome o mio dio lydia chiuse gli occhi ed ebbe come la sensazione che delle piccole isole di conoscenza si sbriciolassero precipitando in infiniti oceane di oblio con una tale prontezza da rendersi appena conto di ciò che stava facendo sette balzò dal corpo di maa a quello di lydia con un'abilità da esperto ne accelerò il sangue lo rese più fluido ordinò alla coscienza del corpo di aumentare la circolazione corredandola delle istruzioni necessarie conta lydia ricorda 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 conta le ordinò d'un tratto lydia ricordò un trucchetto che alle volte funzionava trovò subito il nome del primo numero uno lo visualizzò mentalmente e si concentrò sulla forma poi due poi tre proseguendo nell'ordine finché il panico finalmente se ne andò e il suo nome lydia tornò a galla tra il 15 e il 16 sette tornò da maa e ancora una volta senza sapere come dunque non era intrappolato per sempre dentro di lei pensò trionfante l'aveva lasciata anche se solo per un attimo eppure la distanza delle sue personalità si stava annullando doveva aver accettato se era per questo nessuna esperienza veniva mai imposta ad un'anima o ad una personalità ma quando aveva accettato e cos'altro aveva accettato ancora si sentì irrascibile ma era di nuovo irrequieta per quale motivo era così turbata lydia avrebbe potuto perdere la vita proprio in quel momento e lui sapeva che non era ancora ancora pronta il pensiero lo affascinò se non era pronta non avrebbe certo persa in realtà lydia stava pensando la stessa cosa ma ecco l'attacco era passato lei era viva e per quanto ne sapeva ancora abbastanza sana si sforzò di concentrarsi su lorence e lontano da se stessa come era vicino lorence eppure così lontano gli guardò la nuca una gran noce scolorita i capelli brizzolati erano così vivi ispidi i tendini della nuca così pronti oh la scioltezza con cui muoveva il collo mentre guardava la strada sei maledettamente tranquilla là dietro gridò lorence allegro davvero le prime parole di lydia dopo l'attacco erano talmente chiare la voce così cristallina e amabile e sana e normale che lei voleva gridare dalla gioia dio mio com'era stupenda la vita essere lucidi è una giornata stupenda disse lydia è proprio una vergogna starsene qui a leggere non farci caso e allora guardavo dal finestrino tra poco ci fermeremo per la cena disse lorence lydia aprì la borsetta e si guardò nello specchietto il viso era intatto che vecchia gli occhi screziati di arancione apparivano chiari svegli intelligenti ironici come sempre il viso non era neanche tanto rugoso per i suoi 73 anni era troppo magra per raggrinzirsi la bocca era piccola però adesso aveva gli angoli all'ingiù e il folto cespuglio di capelli bianchi era ancora pieno di vigore ma cosa era successo in quei quanti erano stati tre minuti insufficienza di sangue al cervello così l'aveva chiamata il medico e le minuscole cellule muoiono invisibili una dopo l'altra spegnendosi portando con sé il ricordo e il desiderio quali fatti che non avrebbe più ricordato erano scomparsi quali sottili discriminazioni necessarie alla vita di ogni giorno erano sparite quante se ne dovevano perdere prima che si notasse abbiate pietà del povero corpo e della povera mente che senza rendersene conto perdono il loro prezioso carico merda imprecò l'idia tra sé quel modo di pensare era peggio beh forse anche peggio di un attacco dissanguava la volontà fino all'ultima goccia vivi alla giornata guardo fuori riempiendosi la mente col paesaggio era autunno perché l'autunno l'aveva sempre fatta sentire euforica eppure era così superarono prati grigio bruni ed altri ancora sepolti sotto un tappeto arancione di foglie cadute e poco dopo attraversarono una piccola città ecco le case pensò lydia e ognuna era segreta e misteriosa e conteneva dimensioni di esperienza umana che non potevi esprimere a parole anche le parole l'avrebbero infine abbandonata immaginava di sì ma eccola nel presente a 73 anni in viaggio per quei villaggi e città ad un tratto si mise a ridere sembrò che all'improvviso inspiegabilmente le case e gli alberi fossero tutte artificiali che le foglie fossero state in qualche modo come riciclate riutilizzate e nessuno avrebbe notato la differenza tranne pochissimi probabilmente i bambini forse ma al tempo stesso lydia fu colta da una gran nostalgia come se l'intera città fosse già andata ineluttabilmente in rovina o come se lei l'avesse abbandonata senza una ragione plausibile simultaneamente fu pervasa da un puro slancio di amore per il mondo fisico reale questa era una terra reale dopo tutto e lei ci viveva ancora lei era ancora lucida e viva si sentì esultante queste incantevoli cittadine dell'ohaio disse è il ricordo di proteus stava dicendo cyprus il ricordo dell'isolato dell'ohaio del suo fogliame artificiale che ha appena colpito lydia ed è la spontanea meraviglia di proteus per la terra naturale che sta rianimando proprio in questo momento il suo spirito proteus nel ventitresimo secolo sta montando il suo nodulo proprio nell'attimo in cui lydia e lawrence fissano la veranda al camper nel ventesimo secolo capisci ci sono dei punti di connessione che vengono attivati sette sbatté le ciglia questa conversazione con cyprus stava andando avanti da un bel po evidentemente e solo adesso se n'era accorto certo è ovvio disse cercando disperatamente di non darlo ad intendere però trascuri troppo spesso i dettagli disse cyprus quando aiuti una personalità aiuti tutte le altre ognuna ne percepisce inconsciamente gli effetti ogni personalità infatti aiuta le altre e quando sei in contatto con una sei in contatto con tutte ma chi aiuta me esclamò sette petulante sono stato lanciato in giro come un pallone una metafora terrestre molto efficace disse cyprus sorridendo ma cosa ti fa pensare di non essere stato aiutato quanto tempo siamo rimasti a parlare così incalzò sette ignorando la domanda in che senso in qualunque senso mi stai proprio prevaricando e pensi che sia divertente maa e lydia sono davvero in difficoltà e chissà forse anche proteus e io sono incastrato nel corpo di maa intrappolato proprio lì dentro a parte adesso e vengo messo in libertà solo quando qualcuno ha bisogno di me non è affatto giusto esame o no sei tu a creare la tua realtà gli rammentò gentilmente cyprus tutti lo facciamo ogni coscienza lo fa perciò caro sette cerca di ricordarti ciò che hai dimenticato o meglio cerca di dare per scontato il fatto che tu in realtà sai quello che fai e prosegui da lì dare per scontato che cosa ora ci risiamo la tua situazione difficile è ma che si trova in una situazione difficile e anche lydia e proteus io no a parte questo ridicolo esame cyprus non pote più trattenere il suo divertimento e disse sospirando oh sette dovrai tornare da maa per un po' però sono sicura che fuori dal tuo attuale contesto operativo saresti d'accordo con me ancora non capisci ma io voglio sapere cosa sta accadendo a joseph obiettò sette e non voglio tornare nel corpo di maa tu non hai idea di quanto sia terribilmente limitante e continuo a perdermi lei finché non ne uscirò più credo non potremmo prenderci una pausa un intervallo e fare un salto da joseph sette aveva ripreso l'aspetto di un ragazzino lo trovava più efficace quando aveva a che fare con cyprus lei sorrise d'accordo disse ma ricorda questa deve essere una vacanza molto breve pensa al dipinto di joseph il paesaggio della fattoria e dei campi era posato sul cavalletto joseph vi stava stendendo una serie di vernici trasparenti bianca la figlia diciottenne degli osentauf era seduta sul letto in disordine e stava a guardare appena la vide sette mandò un genito joseph si stava pavoneggiando naturalmente era in piedi con le robuste cosce divaricate piegato all'indietro e fissava il dipinto con le sue grosse sopracciglia drammaticamente abbassate perfettamente conscio degli sguardi incantati di bianca è meglio che te ne vada da qui disse joseph se qualcuno ti pesca nella mia stanza sarò sul serio cacciato fuori per le orecchie o per il sedere bianca rossì rimase in piedi e gli si avvicinò anche giando per provocarlo non aveva ancora riallacciato il corsetto e così abbassando lo sguardo joseph vide i suoi seni nudi lei sorrise senza vergogna tirò fuori un seno e corse ridendo per la stanza ti sentiranno zitta smettila non c'è nessuno in casa e tu lo sai preoccupato bianca si mise a ridacchiare ansimante con gli occhi scuri accesi di eccitazione beh tuo fratello quello più piccolo sì che c'è non puoi pagarlo in eterno perché ci lasci soli che succede se spiffera tutto la 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 questo è affar tuo rise lei io mentirò su tutto bene e io farò altrettanto altrettanto gridò joseph non sapeva mai come comportarsi quando bianca faceva così e lei lo sapeva ah al diavolo strellò sconsolato afferrò la ragazza la gettò sorridendo sul letto mentre lei gli strappava via i vestiti di nuovo sette era molto tranquillo lui e saipro si erano amalgamati al dipinto e scrutavano nella stanza attraverso il quadro beh se la sta proprio spassando fece sette pensavo che joseph ti piacesse tanto proprio per questo perché si diverte sul serio rispose cyprus beh si sta divertendo no però c'è qualcosa in tutto questo che non mi piace nel frattempo i due bloccarono con discrezione la scena per non invadere la privacy di joseph in un momento così intimo se ne rimasero tranquilli in mezzo al paesaggio ponendo uno schermo mentale tra loro e la stanza quando sette sbirciò di nuovo la ragazza se n'era andata uno scarmigliato joseph se ne stava seduto tristemente sul letto e brontolava tra sé aveva perso parecchie ore di luce buone per dipingere e ormai era così disgustato di se stesso che non se la sentiva di lavorare e se non avesse lavorato si sarebbe sentito ancora peggio per giunta guardando il dipinto aveva lo spiacevole sospetto che ci fosse qualcosa di sbagliato tanto per cominciare le vernici non sembravano affatto chiare e brillanti c'era un che di torbido che si insinuava nel colore joseph si trasferì davanti al cavalletto e restò a guardare contrariato il dipinto tre giorni prima il quadro gli era sembrato splendido quella mattina gli era sembrato splendido ora invece aveva proiettato nel paesaggio tutta l'insoddisfazione che nutriva verso se stesso delle screpolature che prima non aveva notato erano divenute ad un tratto evidenti aveva velato troppo le tinte? aveva steso un nuovo strato di vernice prima che quello sottostante fosse asciutto? o forse il problema stava nel pigmento secco quando lo si mescolava con l'olio? joseph ringhiò quasi il lavoro era rovinato rovinato irrimediabilmente la sua grande ispirazione la migliore della sua vita e lui l'aveva rovinata al diavolo non era mai stato un buon pittore al diavolo Bianca e la sua dannata famiglia e i tre schifosi pasti al giorno che gli davano doveva persino mangiare coi contadini tanto per cominciare era colpa di Bianca che lo aveva tentato distogliendogli la mente dal lavoro in preda alla rabbia joseph si mise a urlare e prese a calci la sedia accanto al letto poi dinnanzi alla totale incredulità di sette agguantò il paesaggio e lo fece volare sul pavimento con improvvisa furia in un primo momento sette pensò che il paesaggio si fosse misteriosamente animato ciò che vide davanti a sé era un paesaggio ma differente era un paesaggio tridimensionale che si estendeva tutto attorno a lui si guardò in giro cercando di orientarsi Cyprus e Joseph se ne erano andati sette era di nuovo Maa lei teneva stretta la mano di rampa davanti a loro c'erano acri di verdi alberi e di cespugli fioriti come non ne avevano mai visti l'intera zona era circondata da immense rupi a strapiondo impossibili da scalare naturalmente si trovavano in una valle segreta un gruppo di persone vestite se ne stavano in cerchio su una collinetta erbosa e Maa e Rampa venivano condotti verso di loro sette si sentì cadere di nuovo a capofitto nell'esperienza di Maa eppure fatto abbastanza strano calarsi nel corpo fu quasi come tornare a casa